martedì 13 novembre buona giornata a tutti e benvenuti su ci per tv sembra che questa sia la settimana degli emom perché anche oggi abbiamo dieci minuti emom dove nei minuti dispari faremo tre snatch e nei minuti pari faremo 20 secondi di l seat hold a seguire il wad molto semplice 5 round for time sono 20 snatch e 20 calori sul salt bike vediamo domani mercoledì